Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi hanno avuto davvero una storia? La risposta ufficiale rimane un mistero e probabilmente non arriverà mai, almeno dalle persone coinvolte. A confermare un possibile legame tra i due è stata Belen Rodriguez. L'ex moglie del conduttore di Affari Tuoi aveva infatti ammesso, rispondendo a un commento sotto un suo post, che tra Alessia e Stefano c'era stato qualcosa di più di una semplice amicizia, quando erano ancora sposati. Nonostante le smentite arrivate nel corso degli anni da parte di Alessia e Stefano, il dubbio è rimasto, soprattutto perché l'affermazione di Belen porta con sé un certo peso. Per questo motivo si continua a speculare su possibili riavvicinamenti, l'ultimo dei quali risale a poche settimane fa. A questa voce De Martino ha risposto a modo suo. Interpellato direttamente sul presunto ritorno di fiamma con Marcuzzi, il conduttore ha dichiarato al Corriere della Sera. Ogni mese ce n'è una nuova. È vero che mi piace frequentare persone più grandi di me, che hanno qualcosa da insegnarmi, ma se seguiamo questa logica dovrei uscire con ottantenni. Una risposta evasiva che lascia intatto il mistero. A rafforzare questo scenario, Gabriele Parpiglia ha rivelato nuovi dettagli nel suo show su Studio Cento. Ha raccontato che, a una festa di compleanno di un'amica comune, Alessia lo fermò e si arrabbiò, smentendo fermamente le voci sul suo presunto legame con De Martino. «Se fossimo amici non dovrei parlare», avrebbe detto. Tuttavia, quando Stefano ha risposto alla domanda sul suo rapporto con Alessia, definendo la questione «una nuova ogni mese», Parpiglia ha sottolineato come questa fosse una «non risposta», eludendo di fatto il tema. «Se fosse tutto falso e non volessi che si parlasse di una storia, basterebbe dire non è vero», ha aggiunto Parpiglia. Invece, con questa intervista, si è riaccesa la discussione e chi ha confermato? Belen! Per Parpiglia, la conferma di Belen pesa più di qualsiasi foto rubata dai paparazzi. Inoltre, il giornalista ha rivelato che nel 2018, quando Alessia Marcuzzi conduceva «L'isola dei famosi e Stefano era inviato», già si percepivano tra i due dei segnali di una certa complicità.